vuoi informarti informarti e orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org non dimentichiamo che la guarigione dell'auto inganno dura tutta una vita per questo richiede la perseveranza e nell'ultima analisi la speranza la speranza che tiene chiaro e fermo all'occhio della fede lo scoraggiamento gli è dunque fatale più a lungo deve durare uno sforzo meno sopporterà lo scoraggiamento ma è proprio questo che vuol produrre noi l'auto inganno imbrogliando complicando confondendo inventando stratagemmi moltiplicando attacchi trascurando le convenzioni della guerra logorando la speranza una volta che ci mettiamo a sedere ed a disperare sarà improbabile che ci sarà permesso di rialzarci non bisogna essere superbi o cercare la gloria nelle battaglie contro l'auto inganno ci sono battaglie che non danno grande onore o che lasciano i vincitori sporchi e sfigurati non entreremo mai nelle città morali che avremo vinte in marcia di trionfo torneremo a casa battuti piuttosto ci dovremo accontentare delle vittorie piccole e dei successi modesti con buon umore e con grande pazienza meditazione sugli attributi di dio è un'altra difesa contro l'auto inganno per poter meglio imitarlo per farci impregnare dello spirito della verità che è lui per uscire da noi stessi verso gli oggetti della fede per contemplare lui piuttosto che noi stessi per acquisire un santo timore di lui reverenza adorazione che abbassa se stessa davanti a dio aggiungiamo che un effetto particolare positivo della reverenza è di rendere l'uomo naturale semplice verso il prossimo bisogna coltivare una devozione così interiore che renda possibile essere moderati nel parlare evitando soprattutto i temi della propria vita spirituale e del carattere di altri cerchiamo di camminare solo con la fede deve essere per noi strada luce circostanza atmosfera tutto ecco la nostra sicurezza ecco anche tutta la nostra perfezione non cerchiamo segni provvidenziali esterni come guida di condotta non lasciamoci trascinare da un consiglio casuale ma da una parola attribuita a qualche religioso santo oppure a qualche nostro penitente occorre una grande fiducia in dio come abitudine di mente ed emozione di cuore per non accusare dio del male che facciamo noi quando le illusioni e le complicazioni della vita spirituale ci conducono a situazioni che ci sembrano quasi senza uscita siamo tentati a pensare che chi ci abbia ingannati fosse dio piuttosto che noi stessi cosa ci farà reale quindi il volto di dio il primo tocco regale dell'eternità non solo ci sveglierà ma anche ci guarirà in fondo dell'inganno ci potrà guarire solo il re chiaramente dunque la difesa più efficace contro questo male in terra sarà ciò che più si avvicina al suo rimedio in cielo ossia servire dio con un amore personale l'amore per dio ha questa proprietà di renderci reali la comunione con dio scioglie la nostra irrealità l'amore imita ciò che ama amiamo gesù ed imitiamo la sua semplicità quando guardiamo fuori di noi stessi in fede amorevole si diminuiscono i nostri processi interni e si semplificano parecchio e poi semplificandosi crescono in maestà quando la vita interiore si riduce ad una sola operazione della grazia siamo più al sicuro quando molte cose avvengono in noi simultaneamente c'è poca crescita e molto inganno bisogna guardare fuori di noi verso dio passare verso di lui appoggiarci su di lui imparare ad essere una sola cosa con lui far sì che l'amore per lui bruci l'amor proprio fin quando esso non esista più fin quando ci uniamo completamente a lui fuori dio tutto il reale tutto falso la falsità è una condizione della creatura e quanto è doloroso per noi ma anche per coloro che sono molto meglio di noi scoprire che non siamo altro che in realtà ed ipocrisie indeliberate irrimediabilmente pretenziose è un pensiero sobrio ma anche confortante che il tempo verrà per tutti quando non giocheremo più ruoli né con altri né con noi neppure con dio vuoi informarti informarti orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visite il sito www.radionomalibera.org